Siete arrivati, anzi tornati a Legnano, ma cos'è stato per voi il Giro dei Campioni? Fiammante e veloce come sapete fare voi? Roberto Damiani, è la dimostrazione che anche i bicicletti e i sogni si possono realizzare. Iosi, amici. Enzo, soprattutto ricordi, ricordi di un altro viaggio, eccetera, e poi la condivisione. Massimo Monti, momenti indimenticabili insieme a nuovi amici. Giorgio, il piacere di rivivere emozioni simili di altri viaggi e poi comunque vedere i posti dello Stato dei Campioni del Ciclismo. Angelo, seconda esperienza per solidarietà insieme a questo gruppo. Noi vi ringraziamo perché ci avete fatto fare un bel giro anche con i vostri amici, giusto? Io non l'ho potuto rientrare. Ma col cuore c'era. Altro che. Con il cuore c'era. Tutte le sere ci sentivamo. Esatto, e poi là ci sono delle eroine perché ci sono le vostre mogli, c'è la presidente dell'Aspi, Rosanna. E poi c'è da ringraziare anche la Wyndon per quanto riguarda Lucianolo Bianco, tutta la Wyndon perché ci hanno concesso il pulmino ed è una cosa fantastica insomma. La solidarietà è poi quello che ci unisce maggiormente. È un grande supporto per me. È un grande supporto. È un grande supporto. Vi ha scronato ulteriormente. Sicuramente, sicuramente. Adesso vi lascio perché in realtà voi ripartite, vero? State ripartendo. Torniamo a casa. Andate a casa. Andiamo a casa. Andate a casa.